Benvenuti ad un'altra puntata della sfida dell'amore. Oggi affronteremo un altro argomento, l'amore benevole. E adesso, sigla! La benevolenza è amore in azione. Se la pazienza è il modo in cui l'amore reagisce per difendersi dalle circostanze negative, la benevolenza è il modo in cui l'amore agisce per aumentare le circostanze positive. Una previene, mentre l'altra agisce. L'amore ti rende gentile e la gentilezza ti rende attraente. Quando sei gentile, gli altri vogliono starti vicini. La gente benevola, ovunque va, trova sempre le porte aperte. Sono quattro i pilastri che fanno parte della benevolenza. Uno di questi è appunto la gentilezza. Quando utilizzi la gentilezza, fai molta cura per come tratti l'altra persona. E soprattutto, cerchi di non mostrarti inutilmente aspro anche quando senti di doverlo fare. La gentilezza ti permette di essere tenero e sensibile. Farai il possibile per rendere leggero il rimprovero a chi ascolta. Dirai la verità con amore. Noi già l'abbiamo sperimentato tutto ciò ed è stato un successo. Il secondo punto è la disponibilità. Essere benevoli significa andare incontro ai bisogni del momento. Dona alla moglie l'abilità di servire al marito senza preoccuparsi dei propri diritti. E al marito la curiosità di scoprire i bisogni della moglie. Lo motiva a essere lui a farsi avanti per primo. Anche se momentaneamente deve trascurare i propri bisogni. Terzo punto è la compiacenza. La benevolenza ti sprona ad essere consenziente. Piuttosto che lamentarti e trovare scuse, troverai delle ragioni valide per andare incontro all'altro. Quindi tutto ciò pone fine ad eventuali discussioni, mostrandosi disposto ad ascoltare invece che esigere. Quarto punto, l'iniziativa. La benevolenza guarda avanti e compie sempre il primo passo. Non aspetta uno stimolo. Il coniuge benevolo è colui che sorride per primo, perdona per primo, serve per primo e non ha bisogno che sia l'altro a dare per prima l'amore. Le domande di oggi che vi aiuteranno a riflettere sono queste. Non fu proprio la benevolenza uno degli elementi chiave ad attrarre a te il tuo amoroso? Non ti aspettavi di godere di tutto ciò per il resto della tua vita? E l'altra persona non si aspettava lo stesso? Anche se gli anni possono diminuire il desiderio, la tua felicità coniugale è ancora legata alla benevolenza. Quindi puoi ricostruire tutto con questi quattro pilastri. Come avresti descritto dalla tua amorosa secondo il metro della bontà? Quanto sei duro e quando gentile e disponibile? Aspetti che ti si chiedono le cose o prendi tu l'iniziativa? Lo sappiamo tutti, è davvero difficile mostrare amore quando le motivazioni sono scarse o addirittura assenti. Ma il vero amore decide di agire in modo premuroso, anche quando apparentemente non otterrà nulla in cambio. Non impareremo mai ad amare, finché non impareremo a mostrare benevolenza. Ecco la sfida di questa settimana. Da oggi, oltre a non dire nulla di negativa alla tua amorosa, combi nei suoi confronti almeno un atto di gentilezza che lei non si può mai aspettare. Una volta completata la tua giornata, scrivi le risposte a queste nuove domande sul diario della sfida dell'amore. Quale scoperte faccio oggi riguardo l'amore? E quale sono state le tue azioni nell'ambito di questa sfida? In che modo ti sei mostrata benevola? Auguriamo a tutti di vincere la propria sfida questa settimana. Grazie ancora per averci seguito anche in questa puntata. Appuntamento prossimo giovedì alle ore 17. Vi aspettiamo in diretta per rispondere a tutte le vostre domande. E vi ricordiamo che l'amore vince su tutto!